Buongiorno nell'amore del Signore, io sono Nicodemo Fabiano. Oggi è il giovedì 11 di febbraio del 2021. Noi vogliamo questa mattina continuare la lettura della parola di Dio. Noi stiamo leggendo il libro di Esodo, Mosè che è appena tornato in Egitto per far uscire il popolo di Dio dall'Egitto. Ma vediamo che cosa accadrà in questa bellissima storia della parola del Signore. Quest'oggi noi leggeremo il capitolo 6 e il capitolo 7, sempre del libro di Esodo. Esodo capitolo 6. Il Signore disse a Mosè, ora vedrai quello che farò al Faraone, perché forzato da una mano potente li lascerà andare. Anzi, forzato da una mano potente li scaccerà dal suo paese. Dio parlò a Mosè e gli disse, io sono il Signore. Io apparvi ad Abraamo, a Isacco e a Giacobbe, come il Dio onnipotente, ma non fui conosciuto da loro con il mio nome di Signore. Stabili pure il mio patto con loro per dar loro il paese di Canaan, il paese nel quale soggiornavano come forestieri. Ho anche udito i gemiti dei figli di Israele, che gli egiziani tengono in schiavitù e mi sono ricordato del mio patto. Perciò di ai figli di Israele, io sono il Signore. Vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani. Vi libererò dalla mano della loro schiavitù e vi salverò con braccio esteso e con grandi atti di giudizio. Vi prenderò come il mio popolo. Sarò vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrai ai duri lavori impostivi dagli egiziani. Vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abraamo, a Isacco e a Giacobbe. Io ve lo darò in possesso. Io sono il Signore. Mosè parlò così ai figli di Israele, Ma essi non diedero ascolto a Mosè a causa dell'angoscia del loro spirito e della loro dura schiavitù. Il Signore parlò a Mosè e disse, Va, parla al faraone re d'Egitto perché egli lascia uscire i figli di Israele dal suo paese. Ma Mosè parlò in presenza del Signore dicendo, Ecco, i figli di Israele non mi hanno dato ascolto. Come vorrà darmi ascolto il faraone dato che io non so parlare? Il Signore parlò a Mosè e da Arone e comandò loro di andare dai figli di Israele e dal faraone, re d'Egitto, per far uscire i figli di Israele dal paese d'Egitto. Questi sono i capi delle loro famiglie, figli di Ruben, primogenito di Israele, Kenok e Pallu, Kestron e Carmi. Questi sono le famiglie dei Rubinetti. Figli di Simeone, Iemuel, Iamin, Oad, Iakin, Sokar e Saul, figlio della Cananea. Questi sono le famiglie dei Simeoniti. Questi sono i nomi dei figli di Levi, secondo le loro generazioni, Gerson, Cheat e Merari. Gli anni della vita di Levi furono 137. I figli di Gerson, Libini e Simei, con le loro diverse famiglie. Figli di Cheat, Amram, Isar e Bron, Uziel, gli anni della vita di Cheat furono 133. I figli di Merari, Mali e Musi. Questi sono le famiglie dei Leviti, secondo le loro generazioni. Amram, prese per moglie, Iokebed, sua zia. Ella, li parturì, Arone e Mosè. Gli anni della vita di Amram furono 137. Figli di Isar, Core, Nefeg e Zikri. Figli di Uziel, Misael, Elzafan e Sittri. Arone, prese per moglie, Eliseba. Figli di Amminadab, fo sorella di Nahzon. Lei parturì a Nadad, Abiù, Eleazar e Itamar. Figli di Core, Assir, Elcana e Abiazaf. Questi sono le famiglie dei Coriti. Eleazar, figlio di Arone, prese per moglie, una delle figlie di Putiel e della li parturì Fineas. Questi sono i capi delle famiglie dei Leviti nei loro diversi rami. Questi sono quell'Arone e quel Mosè ai quali il Signore disse fate uscire i figli di Israele dal paese d'Egitto inquadrati nelle loro ischiere. Essi sono quelli che parlarono al Faraone, re d'Egitto, per far uscire i figli di Israele dall'Egitto sono quel Mosè e quel Aarone. Quando il Signore parlò a Mosè nel paese d'Egitto, il Signore gli disse Io sono il Signore di al Faraone, re d'Egitto, tutto quel che io dico a te. Mosè rispose in presenza del Signore Ecco, io non so parlare, come vorrà darmi ascolto il Faraone? Esodo capitolo 7 Il Signore disse a Mosè Vedi, io ti ho stabilito come Dio per il Faraone e tuo fratello Aarone sarà il tuo profeta. Tu dirai tutto quello che ti ordinerò e tuo fratello Aarone parlerà al Faraone perché lasci partire i figli di Israele dal suo paese. Ma io indurerò il cuore del Faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto. Il Faraone non vi darà ascolto e io metterò la mia mano sull'Egitto. Farò uscire dal paese d'Egitto le mie schiere, il mio popolo, i figli di Israele mediante grandi atti di giudizio. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò fatto uscire i figli di Israele di mezzo a loro. Mosè e Aarone fecero così, fecero come il Signore aveva ordinato loro. Or, Mosè aveva 80 anni e Aarone 83 quando parlarono al Faraone. Il Signore disse a Mosè e da Aarone, quando il Faraone vi parlerà e vi dirà, fate un prodigio, tu dirai da Aarone, prendi il tuo bastone, gettalo davanti al Faraone, esso diventerà un serpente. Mosè e Aarone andarono dunque dal Faraone e fecero come il Signore aveva ordinato. Aarone gettò il suo bastone davanti al Faraone e il cuore del Faraone si indurì, non diede ascolto a Mosè ed Aarone come il Signore aveva detto. Il Signore disse a Mosè, il cuore del Faraone è ostinato, egli rifiuta di lasciare andare il popolo, va dal Faraone domani mattina, ecco, egli uscirà per andare verso l'acqua, tu aspettalo sulla riva del fiume, prendi in mano il bastone che è stato mutato in serpente e digli, il Signore, il Dio degli ebrei, mi ha mandato da te per dirti, lascia andare il mio popolo perché mi serva nel deserto, ecco, fino ad ora tu non hai ubbidito. Così dice il Signore, da questo saprai che io sono il Signore. Ecco, io percotterò col bastone che ho in mano le acque che sono nel fiume ed esse saranno cambiate in sangue. I pesce che sono nel fiume moriranno, il fiume sarà inquinato e gli egiziani non potranno più bere l'acqua del fiume. Il Signore disse a Mosè, di ad Aarone, prendi il tuo bastone e stendi la tua mano sulle acque dell'Egitto, sui loro fiumi e sui loro canali, sui loro stagni e sopra ogni raccolta d'acqua, essi diventeranno sangue. Vi sarà sangue in tutto il paese d'Egitto, perfino nei recipienti di legno e nei recipienti di pietra. Mosè ed Aarone fecero come il Signore aveva ordinato. Aarone al suo il bastone, percorse le acque che erano nel fiume sotto gli occhi del faraone e sotto gli occhi dei suoi servitori, tutte quelle acque che erano nel fiume furono cambiate in sangue. I pesci che erano nel fiume morirono e il fiume fu inquinato, tanto che gli egiziani non potevano più bere l'acqua del fiume. Vi fu sangue in tutto il paese d'Egitto, ma i maghi d'Egitto fecero la stessa cosa con le loro arti occulte e il cuore del faraone si indurì. Egli non diede ascolto a Mosè ed Aarone come il Signore aveva predetto. Il faraone volse loro le spalle, se ne andò a casa sua e non fece nessun caso nemmeno di questo. Tutti gli egiziani fecero degli scavi nei pressi del fiume per trovare dell'acqua da bere perché non potevano bere l'acqua del fiume. Passarono sette giorni dopodiché il Signore ebbe percorso il fiume. Parola del Signore. Io ti aspetto domani quando noi concluderemo questa settimana, la prima settimana leggendo il libro di Esodo. Dio ti benedica. Questo è leggiamo la parola del Signore insieme, leggiamo la Bibbia insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Tu puoi essere qui con me per leggere la parola di Dio. Non perdere nemmeno una puntata. Iscriviti su questo canale, metti un like e condividi. Involga tante persone e lascia la parola di Dio parlare nel tuo cuore. Dio ti benedica.